Oltre la metà dei toscani quest'anno ha scelto un albero vero per le festività natalizie. La maggior parte di questi sono arrivati proprio dal territorio aretino, casentino e valtiberina. E adesso, con la fine delle festività natalizie, come fare? La risposta arriva da Coldiretti, che ha elaborato un vero e proprio vademecum su come gestire al meglio l'albero, che con qualche accortezza e un po' di cura potrà accompagnarci anche in futuro. Se l'abete è stato mantenuto in buone condizioni e si presenta integro, cioè senza perdita di aghi, si può conservare in vaso, sul balcone o in cortile, oppure trapiantato in giardino. Per questo serve una zona fresca, ma libera da altre piante ad alto fusto, per consentire all'abete di raggiungere anche l'altezza di 8-10 metri. Poi va subito annaffiato. Le annaffiature devono essere costanti una volta a settimana, nel periodo invernale, e due nel periodo primaverile, di più durante il periodo estivo, quando l'evaporazione è molto elevata. In alternativa, possiamo riportare l'albero al garden, al negozio o direttamente all'azienda agricola, oppure donarlo ai centri di raccolta indicati dai vivaisti.